Ciao, sono Costantino Biontocchi ed oggi vi racconto una casa, venite con me. Siamo nel cuore di Milano, esattamente a metà tra Corso Garibaldi e il Parco Sempione. Siamo in un ampio trilocale, ci troviamo nella zona living con cucina vista, parche chiaro e siamo circa sui 110 metri quadrati in ottime condizioni. Adesso vi faccio vedere la zona notte con sorpresa finale, venite con me. Da questa parte, prima subito sulla sinistra, troviamo un ampio bagno con box doccia e ovviamente la finestra che non deve mai mancare. Dopodiché andiamo a vedere subito la prima camera da letto matrimoniale con studio verandato, cabina armadio e devo dire che insomma anche se oggi non è proprio una giornata con un tempo insomma diciamo un po' milanese, è comunque molto molto luminosa. Sì, ma dov'è sta seconda stanza? La faccio vedere subito. Et voilà! Le Gioi Sonfè! Seconda stanza matrimoniale con affaccio sulla via. Già sapete, il prezzo lo trovate in descrizione e ovviamente gli immobili che era Toscano, c'è solo la Toscano. Allora! Allora! Grazie a tutti.